Verani Cataborelli una delle protagoniste di questa rimonta del Valle Soverato, vittoria sofferta 3-2 così come era successo nella prima giornata di campionato, alla fine arrivano due punti comunque importanti. Sì, come al solito all'inizio siamo partite un po' contratte, un po' tanto questa volta, però vabbè, poi alla fine a lungo andare siamo riuscite a carburare un po' come un diesel stasera, però l'importante è aver portato a casa un po' di punti. Anche il tuo ingresso in campo sicuramente ha avuto impatto sul resto della squadra, continuano quindi le rotazioni di coach Barbieri, indice del fatto che questa squadra può attingere molto anche dalla panchina? Sì, io sono sempre a disposizione del coach, poi quando entro nel mio cerco di fare il mio meglio, dare un po' di equilibrio magari in più e poi quando c'è bisogno fare qualche punto. Vittoria Repice torna per l'ennesima volta da ex qui a Soverato, un punto per questo Perugia che era partito bene, avanti 2-0, poi c'è stato il ritorno del Soverato, un tie-break combattuto. Alla fine comunque vi potete ritenere comunque soddisfatti della prestazione e del punto guadagnato su un campo che storicamente è sempre difficile un po' per tutti. Sì, sicuramente è un punto guadagnato, comunque devo fare complimenti alla mia squadra per questo approccio alla partita perché sono abbastanza aggressivo nei confronti del Soverato, che è una squadra che temevamo molto. Io conosco personalmente anche il campo che è difficile, credo che ci sia stato un piccolo caldo di tensione, però ripeto, per noi è tutto guadagnato. Un campionato in cui Perugia può recitare un ruolo da protagonista, c'è stato un avvio un po' difficile, ma sappiamo anche che avete contratto delle squadre come Soverato e Cuneo, quindi delle squadre forti, ma potete sicuramente ambire ad un campionato importante. Sicuramente, io ripeto comunque che la mia squadra è un sessetto forte, una squadra forte, quindi credo che si devono trovare ancora di piccoli equilibri, correggere dei piccoli particolari, ancora ripeto siamo agli inizi del campionato, quindi alcune cose si devono correggere, però credo che come impatto possiamo giocarcela con tutte le squadre. Fabio Bovari, coach di Perugia, un punto qui a Soverato, una partita terminata al tiebreak, una buona prestazione da parte della sua squadra, probabilmente sul 2-0 avete anche accarezzato un po' il sogno di fare il risultato pieno ad un certo punto. No, non ci è mai passato per la testa, sapevamo che era un avversario tosto, sapevamo che era un avversario che in casa, ma come fuori, è molto temibile, che pernia gioco su molti più attaccanti, quindi sapevamo che avevamo vita dura. Abbiamo fatto due buoni set, poi sono ritornati i vehementi loro e hanno riportato a casa la partita, ma forse un po' di calo di tensione, ma mai abbiamo pensato di avere il risultato in tasca, non è possibile. Avete affrontato in rapida successione Cuneo e Soverato, che sono delle due maggiori accreditate al salto di categoria a giudizio dei pronostici di inizio stagione. Un suo giudizio su queste due squadre, visto che l'ha potuta affrontare a distanza di pochi giorni, praticamente? Sono due buone squadre entrambe, hanno caratteristiche di gioco leggermente diverse. Per quanto riguarda Cuneo, mi è dispiaciuto non aver portato a casa nulla. Per quanto riguarda Soverato, ha fatto una gran bella prestazione, alla quale abbiamo cercato di contrapporre tutto quello che avevamo. Consideriamo il fatto che noi siamo una neofita in questo campionato e quindi dobbiamo guadagnarci con sudore ogni punto che facciamo. Dare un pronostico sulle due, capire oggi chi è più o chi è meno, resta molto difficile, sarebbe imbarazzante per me dare un giudizio. Sono due gran belle squadre. Infine, gli obiettivi di questo Perugia, che come ha specificato poco anzi lei, è una matricola di questo campionato? Dobbiamo fare punti. La nostra classifica si deve muovere di settimana in settimana. Più punti facciamo e più siamo tranquilli e poi potremmo probabilmente divertirci e rilassarci. Al momento non siamo in questa condizione, dobbiamo trovare amalgama, dobbiamo trovare gioco, dobbiamo trovare spunti per muovere la classifica. Coach Leo Barbieri, così come era successo nella prima giornata di campionato, vittoria e rimonta al Palascoppa sotto 2-0. Il Soverato conferma di essere una squadra anche di gran carattere, ha recuperato una partita non facile al cospetto di un avversario comunque ostico e quindi alla fine arrivano due punti pesanti per come è maturata questa vittoria. Sì, sì, abbiamo un grande carattere quando siamo in difficoltà. Adesso dobbiamo dimostrare però anche all'inizio avere qualcosa di più subito a livello caratteriale. Per il resto è stata una partita molto emozionante sotto l'aspetto emotivo. Diciamo che il primo set, abbiamo subito sei errori che per noi sui 13 totali, perciò più della metà degli errori, l'abbiamo fatto il primo set. Ci abbiamo messo un po' a entrare in partita e essere attenti nei meccanismi. Dobbiamo crescere in queste situazioni qua, cioè nella capacità di attenzione di leggere un attimino l'avversario. Poi c'è stata partita e per tre set penso che abbiamo giocato un'ottima pallavolo sotto tutti i punti di vista, perciò siamo contentissimi dei tre set. Solo il primo set forse si poteva fare qualcosa di più. Anche oggi ha avuto grandi risposte dalla panchina che è stato chiamato in causa nel momento di difficoltà in partita in corso, ha risposto bene indice del fatto che questa squadra anche sotto il profilo del gruppo si compatta ogni giorno di più. Sì, sì, Taborrelli oggi, soprattutto lei, penso che ha giocato una grande prestazione perché anche pur giocando da opposto ci ha dato una mano in recezione, perciò ha scaricato un po' la Grey in qualche situazione di recezione. Devo dire che è stata molto brava perché ha fatto tecnicamente tutto molto molto bene.